Ciao ragazzino, si chiama Salim, ha 12 anni, c'è una ruota parolamica, si chiama il London Eye, è la più grande di Europa, Salim sale su London Eye e scompare, chi riuscirà a trovare Salim, ad aiutarci c'è Ted, un ragazzo che come me è fissato per la meteorologia, non perdetevi il brivido di questo libro, il mistero da London Eye. Grazie a tutti.